Salve a tutti, sapete dove ci troviamo? Siamo nella zona di Ciaculli, che si sviluppa lungo l'omonima strada che va dalla corsia di Via Ereda Ciliana fino a Croce Verde. Il nome Ciaculli subì debutamenti nel corso dei secoli. Si pensava che derivassi da Ciacchi, ovvero sassi, che caratterizzavano la pavimentazione del corso principale. Da Ciacchi si passò a Ciaculli, ovvero piccoli sassi. Siamo di fronte ad una terra di vita. Questa borgata è infatti nota per la produzione del mandarino tartivo di Ciaculli, una varietà di mandarino che matura fuori dalla stagione abituale. I giardini di Ciaculli erano circondati da delle recinzioni che racchiudevano tutte le proietà e che prendevano il nome di ferriati. Non è oro tutto ciò che luccica, perché anche la morte caratterizza questa terra. Nel 1973 a Ciaculli avvenne la strada della Giulietta, esito della guerra tra le famiglie mafiose di Tommaso Buscetta e Michele Cavataio. In questo tragico evento persero la vita sette persone, oggi commemorate con la costruzione di un giardino della memoria inaugurato nel 2005, all'inizio della borgata. Guarda oltre l'apparenza, cogli i dettagli, buona giornata!